Questa squadra, l'Atletico Pro Piacenza, probabilmente vincerà il campionato, ma in questo momento il Riccione è un osso molto duro da sgranocchiare. Se ne era accorto anche il tutto cuoio che di recente aveva vinto, ma con grandi difficoltà aveva battuto il Riccione con anche un episodio contestato alla fine del match. Intanto qui siamo al quattordicesimo minuto, la prima occasione per l'Atletico Pro Piacenza che quest'oggi giocava in maglia verde, questo lancio in profondità che viene intercettato dal portiere. Qui invece la conclusione di Cazzaralli, pallone che termina sul fondo, Pro Piacenza mi correggio ovviamente con maglia azzurra. Qui siamo al ventiduesimo minuto, in area di rigore ci prova Bignotti e il salvataggio proprio sulla riga di porta con il pallone che termina in calcio d'angolo. Il numero 10 ha trovato la coordinazione per battere a rete proprio sulla riga di fondo e poi il salvataggio provvidenziale va detto sicuramente da parte di Chiarini. Siamo al quarantaquattresimo minuto, continua l'assalto dell'Atletico Pro Piacenza, continua la difesa ad oltranza del Riccione. In questo caso è Matteassi, un giocatore che si presenta con il solo nome e anche con questa finta davvero ottima con cui sbilancia Morena e batte a rete. Si fa trovare pronto però punti. Tre sole occasioni nel corso del primo tempo che termina. Dunque a reti inviolate con le immagini. Siamo nella ripresa, c'è finalmente il Riccione in avanti con Bufalino, il suo diagonale però troppo debole per impenserire Boari. Decimo minuto calcio di punizione e ancora Cazzaralli. Da distanza ravvicinata a fare i conti con l'ottimo riflesso di Kunzi. Siamo ora al diciottesimo minuto, azione che nasce sulla corsia di destra. Un altro traversone va a vuoto Cazzaralli, poi ci prova Pozzi con questo inserimento dalle retrovie. Spostiamoci al trentaquattresimo minuto, il Riccione che manovra a centrocampo. C'è poi un intervento falloso ai danni di un difensore della Piacenza che termina a terra. Si trattava di Silva. L'intervento compiuto da Bufalino che era già stato ammonito nel corso della ripresa. Arriva il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione per il numero dieci del Riccione che lascia in inferiorità numerica la squadra di Andrea Benedetti per gli ultimi dieci minuti di gara. Cerchiamo di capire qualcosa di più da questa riproposizione, diciamo quantomeno esagerato a nostro modo di vedere questo cartellino giallo in quanto il giocatore numero dieci aveva semplicemente effettuato opposizione sul tentativo di rinvio di Silva. Riccione che comunque anche in inferiorità numerica concede poco o nulla. Abbiamo visto solo questo colpo di testa di Centofanti. Finisce con il terzo tempo e finisce con lo 0-0 che i giocatori del Riccione festeggiano come una vittoria e ne hanno ben dono.